Il nostro cuore è qualcosa che c'è aiutato delle parole e con le conoscQUARE e verso l'interno che poi andremo con noi e poi insegrare così e rimuoviamo in campo e dopo la parte di questo istorato è il risultato sono il mondo e te dimentico e te sento mezzo e ti sento Grazie per la visione!